Saranno il consigliere comunale Fabio Barzanti e l'alpinista Riccardo Bergamini i candidati nel collegio noninominale rispettivamente a Camera e a Senato per Casa Pound. Ad annunciarlo durante una conferenza stampa nella sede di Lucca è il candidato premier Simone Di Stefano, giunto in città per fare tappa del suo tour elettorale nazionale. Una scelta, quella di Barzanti e Bergamini, dettata dalla militanza dei soggetti e soprattutto dai buoni risultati ottenuti dalla lista nelle scorse amministrative. Lucca viene infatti portata ad esempio verso coloro che nutrono scetticismi circa la possibilità per Casa Pound di superare lo sbarramento del 3%. Sicuramente c'è la militanza come metro principale per misurare i candidati. Ovviamente ci aspettiamo di ottenere il grande risultato che si è ottenuto l'amministrativa. Sicuramente qui è stato fatto un ottimo lavoro, noi continuiamo a crescere in tutta Italia e speriamo di replicare questo risultato anche nei territori limitrofi, in tutta la Toscana perché qui si sta lavorando veramente bene e il territorio va premiato.